si parte di nuovo questa volta destinazione mosca cosa ci aspetta un popolo molto diverso dal nostro ma con un valore importante in comune il grande amore per il vivere italiano per la cucina italiana cosa scopriranno a fico tutto in particolare vorrei dire una cosa sola il nostro bar dei cocktail pieno ed esclusivo solo di cocktail italiani piacerà anche voi che scoprirlo grazie